Ministro, da articoli apparsi sulla stampa si apprende che verrà avviato un forum delle aree metropolitane che si articolerà in sessioni specifiche in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e che avrà la finalità di un confronto tra grandi città, Milano, Napoli e Roma per creare un'azione comune di contrasto delle specificità che sono poi il problema delle periferie, sono il problema delle occupazioni abusive, i problemi specifici insomma delle aree metropolitane. Riguardo a questo abbiamo già assistito a due, potremmo chiamarli casi pilota, che sono stati lo sgombero avvenuto in via Bolle a Milano e anche più recentemente sgombero nel quale tra l'altro su 156 abitazioni, 90 sono risultate abusive e a Napoli nel palazzo di Pizzo Falcone dove addirittura i 16 edifici liberati, i 16 appartamenti liberati facevano capo per lo più alla criminalità organizzata. Sappiamo anche sempre da questi riferimenti di stampa che verrà probabilmente rinnovato anche l'assetto della polizia locale. Quindi questa interrogazione è volta a sapere specificamente che cosa intende fare il Ministero in tal senso. La ringrazio, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere, prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, la sicurezza delle nostre città è una delle priorità di questo Governo ed uno dei miei primi atti è stato riunire il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per approfondire le linee di intervento prioritarie in questo specifico ambito. Ho voluto anche dare un immediato segnale alle comunità locali, Presidente dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli e a Milano, due aree metropolitane che insieme a Roma, pur nella loro peculiarità, presentano problemi simili alle quali sarà dedicata una particolare e crescente attenzione. In tal senso è mio intendimento realizzare quello che ho voluto definire un forum delle aree metropolitane che si tradurrà in sessioni specifiche del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e una prima riunione è già stata fissata per il prossimo 16 dicembre. L'idea è quella di mettere a fattor comune le esperienze maturate sul campo e le buone prassi sviluppate in materia di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle criticità delle periferie, al degrado che si registra intorno alle stazioni e alla occupazione illegale degli edifici. Sotto questo profilo, il recente successo dello sgombero avvenuto a Napoli in un edificio di Pizzo Falcone abusivamente occupato anche da soggetti legati alla criminalità organizzata rappresenta sicuramente un caso pilote, cioè un esempio dei risultati conseguibili con una stretta sinergia interistituzionale. A Milano, nello sgombero di Via Bolle, si è operato in modo efficace attraverso un dispositivo di sicurezza pubblica che ha consentito un ordinato svolgimento delle operazioni, assicurando tra l'altro assistenza ai soggetti coinvolti nello sgombero. Anche Roma, da questo punto di vista, e lo dico anche da ex perfetto, non è certo all'anno zero, sono stati infatti realizzati importanti sgomberi in alcune realtà periferiche che hanno consentito di restituire alloggi a chi ne aveva effettivamente diritto. In questo contesto voglio rivolgere un particolare ringraziamento anche alla magistratura che ha partecipato attivamente a queste strategie di legalità. Ritengo altresì indispensabile, in un quadro di progettazione integrata delle politiche di sicurezza urbana, ottimizzare tutte le risorse disponibili. Tra queste, senz'altro, vi è la polizia locale, la cui riforma ordinamentale è un'esigenza assai sentita dagli amministratori e dagli stessi operatori. Una possibile direttrice della riforma può essere proprio la valorizzazione del ruolo che nelle grandi aree urbane le polizie locali svolgono a supporto delle funzioni tipiche dell'autorità di pubblica sicurezza. Un ulteriore profilo di intervento sul piano preventivo e concludo è l'incremento dei sistemi di videosorveglianza. A questo proposito evidenzio che nel disegno di legge di bilancio all'esame di questo ramo del Parlamento sono stati stanziati 45 milioni di euro per il triennio 2023-2025. Grazie. Grazie, Ministro. Presentata dai deputati Alfonso Colucci ed altri, chiado oggetto misure urgenti volte al potenziamento delle attività di prevenzione di controllo del territorio e di tutela dell'ordine pubblico in provincia di Foggia. Il deputato Alfonso Colucci ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie, Presidente. Signor Ministro, ci preme richiamare l'attenzione sulla recrudescenza di fatti criminosi che interessano la provincia di Foggia ed evidenziano l'urgenza di misure e strumenti a supporto e tutela della legalità e della sicurezza pubblica. I dati riportano di un territorio al primo posto per le attività di riciclaggio e tra i primi per i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, oltre all'ordinarietà di furti e danneggiamenti seguiti da incendi. La diffusione di fenomeni illegali segna pesantemente la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, bene collettivo, di alto valore sociale. Le chiediamo se non intende adottare misure urgenti a supporto e tutela della legalità di contrasto alla criminalità volte ad assicurare la sicurezza della cittadinanza anche attraverso il potenziamento dei servizi e dei relativi organici, di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Foggia. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Prego, Signor Ministro. Signor Presidente, onorevoli deputati, il territorio di Foggia è da tempo segnato dalla presenza di un'aggressiva criminalità organizzata che, come tipico dei sodalizi mafiosi, orienta i suoi interessi verso la vita economica e tende ad infiltrare il tessuto sociale ed amministrativo locale, col fine di radicarsi e perseguire in tal modo i propri fini illeciti. Per combattere l'assetto criminale della provincia, già da tempo è nata un'intensificazione delle attività di contrasto possin'essere dalla magistratura e dalle forze di polizia. In tal senso c'è stato un significativo rinforzo delle strutture di contrasto sul territorio con la creazione del reparto Cacciatori di Puglia dell'Arma dei Carabinieri, specializzato nel controllo del territorio e nella ricerca dei latitanti. C'è stata l'istituzione del Comune di San Severo del nuovo reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, la creazione della sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e del racgrupamento operativo speciale dei Carabinieri a Foggia. L'impegno strategico ed operativo quotidiano delle forze di polizia ha già permesso di conseguire importanti risultati con sequestri patrimoniali di ingente valore economico, numerosissime operazioni di contrasto antimafia con misure sia di tipo personale che patrimoniale, sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e di armi. Ed ieri mattina l'operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che nel capoluogo hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca per un valore di oltre un milione di euro. In questo quadro ricordo anche che, oltre all'organico delle forze di polizia presenti sul territorio, pari a circa oltre 2.000 unità, stiamo impiegando ulteriori operatori nel Piano Straordinario di Sicurezza e Controllo Integrato del territorio che nell'anno in corso ha consentito di arrestare 671 persone nell'ambito di 69 operazioni ad alto impatto. Nell'ambito di tale strumento operativo stiamo assegnando quotidianamente a quella sede 20 unità dell'arma dei Carabinieri e 15 della Guardia di Finanza specializzate nel controllo del territorio per un totale di 11.900 unità di rinforzo dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiungono le pattuglie giornaliere dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato e 1.360 carabinieri delle squadre operative di supporto destinate al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e vigilanza in funzione antiterrorismo. Merita di essere sottolineata anche l'azione di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Foggia che dall'inizio del 2021 ha consentito di adottare 27 informazioni antimafie interdittive e sono tutt'ora in corso istruttorie per la imminente definizione di ulteriori provvedimenti interdittivi. Ritengo una priorità assoluta proseguire e rilanciare confermezza e determinazione all'azione di prevenzione e contrasto del crimine organizzato e presto sarò personalmente a Foggia per presiedere un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e per dare un chiaro messaggio in tale direzione. Grazie Ministro, presentata dal Deputato Maggi, chiodo oggetto chiarimenti e iniziative in ordine a notizie circa l'apertura di centri della Polizia cinese sul territorio italiano. Il Deputato Maggi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. La ringrazio Presidente, Ministro Piantedosi, l'ONG spagnola Safeguard Defenders ha pubblicato nel 2022 tre rapporti successivi che hanno portato alla luce l'esistenza di oltre 100 stazioni di polizia clandestine aperte dalla Repubblica Popolare Cinese in diversi paesi del mondo. L'Italia ne ospiterebbe 11 dislocate tra Milano, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze, ovviamente Prato. I primi uffici si inserivano in un accordo di cooperazione internazionale volto a realizzare dei pottugliamenti congiunti. Successivamente ne sarebbero stati aperti diversi altri in numerose città italiane che, secondo le autorità cinesi, dovrebbero svolgere le funzioni di centri servizi. In realtà sarebbero centri illegali volti all'identificazione di dissidenti al loro rimpatrio coatto in Cina e all'attività di monitoraggio della popolazione cinese all'estero per costringere i dissidenti a rientrare in Cina. A seguito della pubblicazione di questo rapporto in diversi democrazie in Canada, in Irlanda, in Portogallo o negli Stati Uniti sono state aperte inchieste per verificare i contorni e eventualmente i profili di illegalità di questa pratica. Noi chiediamo, fatte salve le competenze del Ministero degli Affari Esteri, se il Ministero dell'Interno abbia mai autorizzato l'apertura di queste strutture, quali attività svolgano davvero e se sia stata aperta un'inchiesta in merito. Grazie. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego. Allora, dico immediatamente che la vicenda segnalata dall'On. Interrogante non ha alcuna attinenza con gli accordi di cooperazione internazionale di polizia tra l'Italia e la Cina e con l'esecuzione di pattugliamenti congiunti tra personale delle rispettive polizie. Segnalo che il memorandum d'intesa per l'esecuzione di questi pattugliamenti, firmato all'AIA nel 2015, ha consentito lo svolgimento dal 2016 al 2019 delle attività di pattugliamenti in Italia e dal 2017 al 2019 in Cina, per essere poi sospese nel 2020 a causa della pandemia e tuttora inattive. Le esecuzioni di tali accordi affidate alle competenti e specializzate strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne verificano il corretto adempimento nel rispetto del diritto internazionale e nazionale. Venendo alla questione dell'apertura a Prato di una presunta stazione di polizia d'oltremare di Fusù, informo che la Polizia di Stato ha immediatamente avviato accertamenti dai quali è emerso che lo scorso mese di marzo l'Associazione Culturale della Comunità Cesese di Fujian in Italia aveva aperto una sorta di sportello per il disbrigo di pratiche amministrative rivolto ai connazionali. Il Presidente del Consiglio Direttivo di tale entità, sentito presso gli uffici della locale Questura, ha dichiarato che, oltre alle finalità richiamate, la sua associazione avrebbe fornito un servizio finalizzato ad aiutare i cittadini cinesi che a causa dei protorassi della pandemia non avevano potuto fare rientro nel Paese d'origine nel rinnovo di patenti cinesi e in materia di successioni. Ad oggi, la predetta associazione, pur rimanendo formalmente in essere, di fatto non risulta più fornire i suddetti servizi, che peraltro avrebbero riscorso anche uno scarsi interesse, atteso il numero esiguo di richieste pervenute solo quattro. Sempre nel quadro delle attività di controllo e vigilanza posti in essere dalle forze di Polizia sulla vicenda, soggiungo che il 16 novembre scorso ha avuto luogo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un incontro con l'ufficiale di collegamento in servizio presso l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma, che ha confermato quando dichiarato dal Presidente del Consiglio Direttivo della città d'associazione. Sottolineo che degli elementi acquisiti dalla locale di Icosa è stata informata l'autorità giudiziaria per ogni ulteriore eventuale valutazione. Circa le altre città italiane richiamate dall'On. Interrogante sono tutt'ora in corsa approfondimenti. Non risultano al momento cosiddetti centri servizi analoghi a quelli di Prato, né a Roma, né a Firenze, né a Venezia, né a Bolzano. Solo a Milano è stata riscontrata la presenza di un'associazione, la Overseas Chinese Center, che svolge attività di disbrigo pratiche amministrative per i cittadini cinesi, sulla quale sono in corsa approfondimenti. Sempre nell'ambito delle verifiche tuttori in corso, dagli accertamenti esperiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non risulta alcuna autorizzazione da parte delle articolazioni centrali e periferiche del medesimo Dipartimento in ordine all'attività dei centri in questione. E purtuttavia ho dato mandato di esperire immediatamente ogni ulteriore indagine amministrativa anche al fine di verificare se non vi siano eventuali provvedimenti abilitativi a qualsiasi altro eventuale titolo. Assicuro che le forze di Polizia, in costante raccordo col comparto Intelligence, hanno in corso un monitoraggio di massima attenzione sulla questione di cui trattasi e che seguirò personalmente gli sviluppi della stessa e di tagli approfondimenti non escludendo provvedimenti sanzionatori in caso di legalità. Grazie a facoltà di presentata dai deputati Mauri ed altri che ha ad oggetto tempi e criteri per la definizione del prossimo decreto flussi con particolare riferimento all'ipotesi della quantificazione delle relative quote sulla base di una preventiva verifica della disponibilità dei percettori del reddito di cittadinanza. Illustra l'interrogazione il deputato Tony Ricciardi di cui è cofirmatario. Prego Onorevo. Grazie Presidente. Ministro Pantedosi, lei a mezzo stampa ha dichiarato che entro l'anno cercherà in tutti i modi di porre in essere il decreto Fussi dichiarazione che noi condividiamo, anzi auspichiamo che venga fatta con celerità soprattutto vista l'altissima richiesta dei settori più produttivi del Paese e quindi speriamo che questa sua dichiarazione, questo suo intento non cada, non subisca gli attacchi ideologici sul tema. Ora, tralasciamo le cifre rispetto al decreto Fussi sulla qualità o meno o sul tentativo di imporre anche in questo Paese la teoria dei primi nostri che ha fallito in mezzo a Europa. La questione è la seguente. Visto il rapporto e la correlazione con il reddito di cittadinanza, quali sono i tempi, le modalità e i criteri precisi attraverso i quali lei, Ministro Pantedosi, ritiene di poter comporre il decreto Fussi nonché in relazione al richiamato reddito di cittadinanza soprattutto lei come immagina di riuscire a coniugare queste tempistiche sfasate per arrivare poi concretamente alla definizione del nuovo decreto Fussi. Grazie Presidente. Grazie a lei. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere. Prego. È bene promettere che il cosiddetto decreto Fussi rappresenta solo un elemento della più ampia politica di gestione delle migrazioni dispiegata dal Governo e che quindi deve essere inteso in un'ottica di governo delle dinamiche migratorie con un focus centrato sulle esigenze del mercato del lavoro e più in generale di sostenibilità dell'accoglienza e dell'integrazione. Il decreto Fussi inoltre è un atto di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e la definizione del suo contenuto richiede l'apporto di una pluralità di attori istituzionali oltre al di Castero dell'Interno, quello degli esteri, del lavoro, dell'agricoltura e della conferenza unificata Stato, Regioni e Provincia Autonome, nonché enti e associazioni rappresentative del mondo del lavoro. Aggiungo che il decreto Fussi si salda con aspetti di rilievo della politica internazionale dell'Italia in materia migratoria, secondo un preciso indirizzo di questo Governo. Mi riferisco in particolare al fatto che, poiché il contenimento della pressione migratoria è strettamente collegato con la collaborazione dei Paesi di provenienza e transito, il decreto Fussi, opportunamente modulato in termini premiali, può diventare uno strumento importante per riconoscere maggiori quoti di accesso ai Paesi più impegnati nella lotta all'immigrazione irregolare, rafforzando al contempo i canali di ingresso legale. Ed è un meccanismo che personalmente intendo proporne il rafforzamento per il futuro. Venendo al punto sollevato dagli onorevoli interroganti, segnalo che il Governo si è immediatamente attivato per adottare il prossimo decreto Fussi e che i limitati tempi a disposizione impongono di muoversi nell'ambito della normativa vigente che, come noto, prevede che il datore di lavoro interessato a instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero debba farne domanda previa verifica presso il Centro per l'impiego competente per verificare l'indisponibilità adeguatamente documentata di un lavoratore presente sul territorio nazionale. A questo meccanismo già previsto dalla normativa vigente potrà sicuramente ricollegarsi la previa verifica in merito agli eventuali percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta in buona sostanza di individuare forme e strumenti adeguati all'attuale contesto socio-economico affinché offerte e domande di lavoro si incontrino nell'interesse del sistema produttivo e del massimo possibile ampliamento delle opportunità d'ingresso nel mercato del lavoro. Il lavoro preparatorio del prossimo decreto Fussi è in via di definizione proprio in questi giorni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coordinamento di tutti i ministeri coinvolti e vi compreso quello che rappresento.